Soprattutto Salvini ha indicato un piano B, diciamo così, e io non sono d'accordo quando si dice o questa ipotesi o 5 stelle, insomma, diciamo che il mio punto di vista è che si debba fare tutto quello che è possibile fare nel campo del centro-destra per arrivare in governo, però voglio, diciamo che si ribadisca e che noi andiamo, combatti dal Presidente della Repubblica, a indicare Salvini come candidato premio. E' d'accordo? Ma ripotesi Salvini? Io sono d'accordo con l'ipotesi Salvini. Sì, ma il primo tiro Salvini. Salvini, diciamo che per noi Salvini, noi crediamo di poter costruire una maggioranza a questa ipotesi, poi se questa ipotesi se ne parlerà e si cercherà un'altra ipotesi. Avete avuto contatti con il Movimento 5 Stelle sulle Presidente della Presidenza? Io ho avuto una telefonata questa mattina di Toninelli, sulle presi sul gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle e penso che nelle prossime ore ci incontreremo perché per carità sono disponibili a parlare con tutti, io non ho voluto parlare con nessuno prima di vedere il centro-destra perché per me quello è il mio ambito e chiaramente parlerò con il Movimento 5 Stelle continuando a confrontarmi particularmente con i miei alleati perché penso che il centro-destra debba tenere una posizione comune su questo tema.